Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Questo video contiene delle parti che nel precedente video a basso non avete visto Dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividetevi, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti E superiamo i 100 like anche per questo video perché ci sono molte belle catture Dunque ragazzi direi di non perdere altro tempo e via con il video Dunque ragazzi direi di non perdere altro tempo Preso Simon Mini bassa a crank Ecco va Un bass da 20 centimetri a crank Quello che usavo di solito io Watermelon Si ma qui in watermelon Si muove poco però non si muovono tanto le cale Non si muovono tanto le cale Ma sai il bello del mio innesco che faccio con Con quel nodo E che di base sta su Perché Sta fermo Comunque l'acqua è caldissima Ma è veramente calda Io pescherei da dentro l'acqua Ehi dato che siamo su sta zona qua Che non è male Provare a drop shot Io provo a metal Preso Funziona Funziona Ho perso il conto Sono a 6 Cosa sono Bazzotto Magrotto Adesso tiro via Caputana Adesso tiro via Il jig da quella che ho sulla schiena E butto Il metal vibe Dai ancora Non si muovono Non si muovono ho preso preso cazzo alib eccolo qua bello eh vabbè è massato da lontano non lo vedo neanche eccolo qua un altro molto bello vai bello bello visti visti qui là no 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 eccolo senza stavato vabbè preso 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 mangiato e baby bus io ho avuto una mangiata però ho mangiato male e la è ok sembra sembra guarda tutta la mia fortuna la do a te è big ah no era per l'albero non è male un bel passotto un bel passotto un passotto bello 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 non è ancora non è ancora giusto il lo quale preso Grazie a tutti